Grazie Presidente. Questo emendamento di Commissione vuole aggiornare la delibera per la parte che riguardava le esenzioni COSAP. Ripeto, la delibera è stata presentata a maggio, ancora non era stata esentata la COSAP con la delibera di giunta che poi è passata in Assemblea Capitolina, quindi prevedeva quegli esoneri che oggi sono già passati, quindi non viene più necessità. Per questo si elimina il comma 4 e poi si modifica il punto elenco che prima chiedeva alla ragioneria di predisporre e di tener conto di questa esenzione, nel senso che chiediamo alla ragioneria di tener conto degli emendamenti nella programmazione dell'ente e nell'equilibrio del bilancio. A questo serve questo emendamento. Grazie Presidente.